Il Consiglio nazionale elettorale dell'Equador attraverso il suo consolato a Genova convoca i cittadini ecuadoriani residenti in Liguria e in Emilia Romagna a partecipare al referendum di consulta popolare 2018, un referendum necessario per la comunità ecuadoriana, come sottolinea la console Bacchero. Domenica 4 febbraio è importante andare a votare per questo referendum consulta popolare, ci sono sette domande, è importante che possano dire la sua opinione di queste sette domande, quindi vi invito a tutti i quatoriani a fare questa importante votazione il 4 febbraio. Cosa serve questa votazione? Cerchiamo di spiegarlo per chi ovviamente magari non lo sa. Ci sono sette domande dove ci sono le possibilità di cambiare la Costituzione equatoriana con diverse domande. È importantissimo capire le domande e dopo votare sempre pensando bene le domande e anche sapendo quello migliore che sia per l'Equador. La comunità ecuadoriana Genova è chiamata al voto domenica 4 febbraio presso il Palagin Don Bosco di Genova San Pierdarena dalle 7 alle 17. Il referendum permette di abrogare alcuni articoli della Costituzione dell'Equador.